Dopo le accuse mosse dal consigliere regionale di opposizione Marco Cipolletti e dal medico di medicina generale Siriano Cordoni per i ritardi nelle prestazioni da parte dell'azienda sanitaria Teramana, è arrivata la replica del direttore generale dell'Asli, Teramo Maurizio Iggiosia. Le accuse hanno riguardato in particolare le tempistiche per l'epiluminescenza, un esame che permette di valutare le lesioni della cute e in particolare utilizzato dietro precise indicazioni per la mappatura dei nei. E' facile sparare sulle liste d'attesa, non è solo un problema dell'Asli di Teramo, è un problema di tutte le Asli abruzzese, è un problema di tutte le Asli nazionali, quindi è ovvio che da parte nostra ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità e noi lo faremo, lo faremo sia grazie alla regione che ha istanziato importanti somme per le liste d'attesa, noi le stiamo utilizzando al meglio per ridurle. Tra le strategie che l'Asli di Teramo sta valutando per portare ad una riduzione delle liste di attesa anche misure straordinarie, tra queste la limitazione delle attività di libera professione negli ambiti in cui non si rispettano i parametri, inoltre proporrà nella stesura del prossimo accordo integrativo con i medici di medicina generale dei livelli sanzionatori per le reiterate prescrizioni inappropriate, così come attuato già in altre regioni. Metteremo in campo tutte le iniziative necessarie, stiamo valutando dove possono verificarsi le sacche e noi interverremo anche rigidamente, togliendo la libera professione in quei reparti dove non ottemprano rispetto delle tempistiche sulle liste di attesa, non solo, oppure per le prescrizioni che fanno i medici di base, io farò la torre alla regione di intervenire con delle sanzioni verso coloro che fanno delle richieste inappropriate. La proprietà delle prescrizioni è uno dei fattori che determina anche questo, però ecco, noi dobbiamo metterci la faccia, io ce la metto, me ne assumo tutta la responsabilità, però ecco, evitiamo che diventi una polemica futre per racimolare qualche voto. Il problema delle liste di attesa è anche aggravato dalla carenza di personale qualificato, per questo motivo sono diversi i concorsi che la ASL sta mettendo in campo. Certo, noi facciamo tutti i giorni i concorsi, noi abbiamo carenza di personale, lo sappiamo tutti, carenza di anestesisti, pediatri, cardiologi. Ieri abbiamo fatto un avviso di cardiologia, 10 per candidati, se ne è presentato uno solo, uno specializzando e neanche vuole accettare. Questa è la realtà delle sanità, questo è quello che i nostri politici devono tener conto nella programmazione sanitaria. Grazie. Grazie.